Finalmente si stabilisce equilibrio tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo e un perito nominato che dovrà estrapolare le immagini per fare un dvd forense per ricostruire la realtà di quel giorno. Lo ha detto l'avvocato Francesco Villardita, difensore di Veronica Panarello, la donna accusata di aver ucciso il figlio Loris arrivando al tribunale di Ragusa questa mattina dove si è tenuto l'incidente probatorio sulle videoregistrazioni che secondo la procura accusano l'indagata detenuta ora nel carcere di Agrigento. In tribunale a Ragusa per l'incidente probatorio sulle videoregistrazioni che accusano appunto Veronica Panarello dell'omicidio di suo figlio anche la zia Antonella Stival e il padre di Veronica Francesco Panarello. Siamo stati sabato a trovare Veronica come sempre ha detto Antonella Stival e sciupata ha detto la zia ma combattiva. Un figlio glielo hanno ucciso e l'altro lo hanno portato via chiede sempre di Diego, lo vuole vedere. Il perito ha fissato già la prossima udienza per il 26 giugno prossimo. Le operazioni di copia dei filmati dal server della polizia di stato in dvd da consegnare ai legali potrebbe già iniziare invece la prossima settimana.